Salve, allora lo so è un po' strano vedermi su questo canale parlare di anime e manga ma ci tenevo perché purtroppo oggi è scomparso Akira Toriyama per chi non conoscesse Akira Toriyama è l'autore di Dragon Ball e voglio parlarvi in breve in questo video di quello che è stato Dragon Ball per me quello che mi ha trasmesso sin da ragazzino perché io grazie a Dragon Ball sono cresciuto io grazie a Dragon Ball ho conosciuto altri autori, altre opere Dragon Ball è stato un po' il papà, Akira Toriyama è stato un po' il papà di tutti quelli della mia generazione più o meno e stamattina mi sono svegliato e ho saputo così di punto in bianco questa notizia e sono rimasto molto male, non me l'aspettavo assolutamente Akira Toriyama era del 55, quindi aveva 66-67 anni sappiamo tutti, o almeno quelli che un po' bazzicano questo mondo che il lavoro di mangaka è un lavoro super stressante è un lavoro che ti tiene occupato sempre, dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7 sempre, soprattutto se sei un autore emergente che devi far uscire la tua opera oppure magari è già un autore affermato che devi continuare la tua opera c'hai un carico di lavoro allucinante e tanti non ce la fanno proprio per la questione di stress si ammalano per questa cosa qui io ringrazio, voglio ringraziare Toriyama per tutto quello che ha fatto per me e per quelli della mia generazione io mi ricordo benissimo quando ero nella mia cameretta mi guardavo Dragon Ball e facevo l'onda energetica facevo la Genki Dama davo l'energia a Goku per sconfiggere Majin Buu questa cosa è stata bella e riuscivo a entrare dentro Dragon Ball riuscivo a essere parte di quest'opera e è difficile è una delle cose più difficili che ci sia riuscire a farti immedesimare in qualcosa ci sono pochi autori che riescono a fare questa cosa pochissimi e Akira Toriyama era uno di questi quindi non voglio dilungarmi come vi ho detto perché non voglio parlare troppo di anime manga su questo canale e vi ringrazio per avermi ascoltato vorrei sapere la vostra nei commenti su questo argomento quindi sulla scomparsa di Akira Toriyama e grazie ragazzi